Stefano Francelli segue Jessica Cantona. Jessica Cantona. Capita certe volte di essere in ritardo di qualche giorno o certe volte di essere in anticipo. Io vengo a parlarvi di un percorso che è in anticipo di qualche giorno, non molti rispetto a quello di quest'oggi. Ringrazio Gianni perché finalmente è un punto di riferimento. Mi parlo di un'esperienza che sta maturando in Umbria e che ha trovato uno spazio politico enorme dopo un percorso congressuale come quello del congresso regionale che ci ha fatto capire molte cose. La prima, vorrei partire da qui, noi non siamo minoranza. Ci sono questioni politiche sulle quali oggi nel nostro popolo, nella società italiana, le ragioni, gli argomenti che ho sentito su questo parco e che rappresentano il cuore della nostra proposta politica intercettano domande largamente maggioritarie. Partiamo dal lavoro. Il fatto che il paradigma dopo vent'anni di liberismo sia il fatto che qualunque lavoro sia meglio di nessun lavoro è un paradigma che ci porta alla sconfitta. La maggioranza degli italiani non chiede un qualunque lavoro. Non quei precari, non quei disoccupati, non quei cinquantenni espulsi dal mercato del lavoro che oggi si chiedono qual è la strategia industriale di questo paese, qual è la visione del modello di sviluppo. Io parlo di quei giovani che sperimentano i fab lab, il co-working, che sperimentano forme nuove di emancipazione della precarietà, di progettualità di vita. E ancora, guardate, su tanti temi noi interpretiamo una domanda di politica, io l'ho visto costruendo questa esperienza in Umbria, che è largamente condivisa in tutti quegli uomini, in quelle donne, in quegli uomini che vogliono un partito democratico che non sia il comitato elettorale di un leader, ma che sia il soggetto politico che portava sintesi delle tradizioni politiche del Novecento. Quando è che abbiamo rinunciato all'identità politica del PD, al progetto del PD, ad una sinistra moderna? Guardiamo in faccia le leadership. Obama non è solamente un buon comunicatore. Le leadership autorevoli non sono personali, ma rappresentano un disegno di politica, di identità nazionale e politica in un'ottica globale. E la sinistra europea oggi è in crisi perché non ha quella visione, non è in grado di avere una propria progettualità di società, un'idea di società. Oggi essere nel partito del socialismo europeo non significa semplicemente aver messo in maniera meritoria il nome del PSL sul simbolo, ma significa avere un progetto politico d'Europa, di sinistra, di identità politica. E allora che PD vogliamo? Ci sono un po' di domande, guardate, domande che scaldano i cuori ma che soprattutto interrogano il futuro. Che PD vogliamo? Noi nel 2018, se ci arriveremo, che coalizione presenteremo? Una coalizione di centro-sinistra? O proseguiremo su questa anomalia di maggioranza che non si sa più se è d'emergenza nazionale o se è un progetto politico? E qual è il ruolo del Partito Democratico? È solo un comitato elettorale o la somma di comitati elettorali? Ma ricordiamo il fallimento delle nostre politiche di riforma del Paese con il riformismo dall'alto? O immaginiamo che oggi bastino dei sondaggi per cambiare i rapporti di forza nelle scuole, nelle università, nelle aziende? Che Paese immaginiamo? Immaginiamo un Paese che sia il riflesso dei sondaggi? Ma da quanti anni non facciamo più politica nei territori? Da quanti anni non ci misuriamo con le sconfitte, con le vittorie dei cambiamenti culturali effettivi? Da quanti anni non ci misuriamo con le difficoltà delle nostre amministrazioni nel governare i processi di trasformazione? O immaginiamo che la stagione dei sindaci sia appena iniziata e che governare il territorio sia facile, e basta fare il sindaco d'Italia? Che Paese vogliamo intercettare? I voti di Grillo li rivogliamo perché i sondaggi dicono che forse gli stiamo simpatici o ce li andiamo a riprendere? Io ho provato ad andargli a intercettare, insieme a tante altre persone, vi dico che non sarà semplice, non bastano tre mosse azzaccate sui costi della politica, non basta per cancellare o per rimettere in moto un meccanismo di partecipazione e di credibilità a questo partito, il cambiare nella notte qualche capolista o fare qualche operazione di marketing. Qui c'è un problema di progetto politico, di identità politica. Noi stiamo facendo un servizio prezioso per un partito che o ha un progetto politico o non ha prospettiva e la prospettiva non è legata a questo o a quel leader, la prospettiva è legata ad un disegno che intercetti le domande maggioritarie di questo Paese e gli dia una forma. Guardate, io lo voglio dire così, noi facciamo un servizio al Partito Democratico costruendo un progetto politico vero di PD, da radicare, da far crescere, intercettando una domanda di trasformazione che c'è ma che oggi non basta semplicemente il enunciare. La velocità, la velocità, è bella la velocità, per me interessano anche e vado a chiudere immediatamente i progetti politici e il loro orizzonte, la loro concretezza. E allora lasciatemela dire così, noi in Umbria abbiamo avviato un cantiere, un'area politica, si chiama il coraggio di cambiare, siamo ben oltre i risultati congressuali, intercettiamo domande di partecipazione politica molto vasta, lo facciamo per il Partito Democratico, al servizio del Partito Democratico ma la consapevolezza è quella che questo nostro servizio al PD serve ad un partito plurale, credibile, autorevole, che sia un qualcosa di molto più simile alla promessa da cui era partito che non alla somma di comitati elettorali in cui ci troviamo oggi. E allora né il PD con lealtà ma per chiedere un PD e una sinistra diversi da quelli attuali. Costruendo qualcosa di nuovo. Chiudo con una citazione per me simbolica, dopo anni di dibattito io ho riscoperto i classici. Pertini. Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile. Non vi può essere vera libertà senza la giustizia sociale come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere sociale ma privandomi della libertà io la rifiuterei, non la potrei accettare. Ma la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli ed educarli? Questo non è un uomo libero. Bene, compagni e amici, noi vogliamo unire e far vincere gli uomini liberi. Grazie Stefano.